Musica Cambia all'ufficio di presidenza della Regione, il Consiglio approva la modifica dello statuto, i membri dell'ufficio salgono da 5 a 7 e viene istituita la figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la modifica dello statuto regionale per aumentare il numero dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio. La modifica è stata approvata con 30 voti a favore PD, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, un voto contrario, quello di Italia Viva e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Ha approvato anche un ordine del giorno proposto da PD, Fratelli d'Italia e Lega per regolare i trattamenti economici affinché non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La modifica prevede l'allargamento a 7 membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio, fino ad oggi erano 5, e l'istituzione di un sottosegretario alla presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali. Sentiamo le interviste. In uno dei momenti più difficili della storia della Toscana, dalla sua nascita dal 1970, assistiamo a un dibattito surreale, fuori tempo e soprattutto irricevibile, riguardo l'aumento del poltrone, perché di questo di fatto si tratta, sottosegretario, ufficio di presidenza, tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini, perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la Giunta, gli amministratori, si occupino di altro, in questo momento scandalizza particolarmente. Nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la Giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora, questo Consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, a detta loro, in varianza di costi e degli uffici di presidenza, di cui francamente non se ne avverte il bisogno. E per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro, probabilmente a tante cose ben più urgenti, le scuole, la mancanza continua di aule, i problemi della sanità, i problemi infrastrutturali, molti altri problemi. E cosa più grave di tutte, per la prima volta, dal 1970, una riforma statutaria non viene presentata dal suo proponente, dal Presidente della Giunta, che oggi si trova per altri affari a Bruxelles e viene difesa dalla sua maggioranza in Consiglio. Noi usciremo dall'aula al momento del voto, perché qualunque cosa venga votato per i toscani in questo momento non avrà il nostro nome, non avrà il nostro volto e non avrà neanche il nostro voto, perché del resto non ha avuto neanche il voto del Presidente che l'ha proposto, ma poi non è stato qui a difenderlo e a parlarci dei motivi di questa così importante riforma statutaria. Lo ripeto, è qualcosa che non si è mai visto in Regione Toscana, è uno schiaffo alla democrazia e alla dignità del Consiglio e dei consiglieri, che non sono passacarte di una Giunta. Ritengo che siamo approdati ad una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta di un nono assessore per poter lavorare di più e meglio. Abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo Statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma a ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. Per cui dopo diversi mesi che questa proposta giaceva lì senza essere trattata, siamo arrivati alla prima approvazione, perché poi dovrà esserci la seconda lettura, che ritengo possa comunque dare un contributo per poter lavorare meglio nell'ambito dell'esecutivo e avendo trovato anche una condivisione, perché uno degli obiettivi era quello di non aumentare i costi, cosa che abbiamo fatto e rispettato con l'approvazione della proposta scaturita da emendamenti che il Partito Democratico ha presentato alla soluzione originaria che era stata inoltrata al Consiglio. Io sono davvero contento, nel senso che mi ero posto un obiettivo, l'obiettivo era larga condivisione, perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza, io penso alla proposta del collega Scaramelli, non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo, perché provocava un aumento di costi e siccome la strada era un'altra, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana e non è chi sarà domani il sottosegretario, a me questo interessa il giusto, a me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi, quelli più caldi, ora penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Esattamente come per l'Ufficio di Presidenza, dove io penso che sia giusto che tutte le forze politiche, o quasi tutte o più forze politiche, siano rappresentate. Quella è una sorta di piccola giunta del Consiglio e a me fa piacere ascoltare il parere di tutti per decidere, come ho fatto sempre in questo anno di mandato, cercando la più ampia condivisione possibile. Il mandato che ho avuto il 19 di ottobre dello scorso anno e che sto cercando di portare avanti nella forma e nella maniera con cui sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale. C'è da dire che il testo da come usciva di giunta è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore, né due sottosegretari esterni perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile. Quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo. Quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno, a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza dando la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza costi aggiuntivi e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla giunta. Certo quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto, abbiamo visto il Presidente di Commissione che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare, abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Quindi la maggioranza non può star proprio serena anche perché mi sembra di capire che la giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto. Io spero che la giunta abbia capito che il potere legislativo spetta il Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con i consiglieri. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della regione toscana, dopo 15 modifiche dello statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma che noi abbiamo contestato dall'inizio che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Non ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un presidente che poteva nominare otto assessori. 40 erano consiglieri. Queste erano le regole di ingaggio. Quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani. Ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada. Ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura. Daremo battaglia da qui alla seconda lettura che sarà fra due mesi e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. Allora, intanto lo giudico decisamente surreale. Abbiamo visto un dibattito che se un osservatore esterno fosse arrivato in Consiglio regionale ieri si sarebbe chiesto in quale strana assise è capitato. Abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il Vice Presidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del Consiglio regionale e l'allargamento dell'ufficio di Presidenza sicuramente va in questa direzione cioè tutela maggiormente il Consiglio due a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito. Fa sottolineato però perché è doveroso farlo che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni il Presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle apprensate. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio quando ci era stato proposto nove assessori e due sottosegretari esterni che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio alla Giunta di lavorare meglio a patto che non vi fosse aumento di costi ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello Statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore e sì all'allargamento dell'Ufficio di Presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'Ufficio di Presidenza di tutte le forze politiche naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente più efficace di lavorare meglio e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo come Forza Italia abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi che i sottosegretari costavano di più forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi forse semplicemente perché abolendo il non assessore qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più. Noi non siamo abituati a far politica occupando le persone ma siamo abituati a far politica occupandoci delle persone. Cambiamo argomento. il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Marco Landi ha presentato un question time sulla questione costi della sanità. Sentiamo. Sì, c'è un buco di bilancio chiamiamolo come vogliamo ma di fatto si parla di 400 milioni che andranno ad appesantire sulla sanità toscana un bilancio già abbastanza negativo e sarà un autunno sicuramente molto caldo da questo punto di vista perché si parla di assunzioni bloccate per gli infermieri si parla di taglio della spesa si parla anche evidentemente di tagli di servizi dobbiamo capire in maniera approfondita quello che il presidente Gianni in realtà nel mese di agosto smentiva a mezzo stampa dicendo che il buco non esisteva per poi arrivare alla fine di settembre con dichiarazioni anche discordanti tra l'assessore della sanità Bezzini e il presidente Gianni su questo buco di 400 milioni una parte di questi sicuramente circa una metà arriveranno per il problema covid dallo Stato però bisogna capire gli altri 200 milioni circa da dove arriveranno come verrà sanato questo buco e soprattutto la preoccupazione nostra è che questi tagli non vadano a toccare le assunzioni non vadano a toccare i servizi non vadano a toccare la spesa che sulla sanità toscana inciderebbe pesantemente sulla gestione da aggiungere che sul tema sanità anche il consigliere Veneri di Fratelli d'Italia aveva presentato una mozione in particolare sulla riorganizzazione delle ASL toscane mozione che però è stata respinta dal consiglio regionale in ogni caso è facile prevedere che quello dei servizi sanitari sarà un tema molto dibattuto nelle prossime settimane anche in consiglio regionale per questo appuntamento con Monitor Consiglio è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione